Do se va a trovare noi un pirata della strada? Do se va? De dove? Te sei il pirata della strada! Te sei il pirata della strada! Te c'hai il piccaffe! Te c'hai il piccaffe! E poi te guidi come ho fatto! Te guidi come un matto! Uno spettacolo itinerante che ha coinvolto l'intero borgo della Val di Chiana. Così a Monte San Savino è stata presentata la nuova stagione teatrale del Teatro Verdi. Il tema è il sorriso perché veniamo da un periodo troppo pesante per appesantirci ulteriormente. Il sorriso può essere amaro, può essere riflessivo, non è che il sorriso significhi necessariamente superficialità o stupidità. Un sorriso anzi, a volte è più difficile strappare un sorriso che una lacrima. Quindi il tema è quello, declinato in tante modalità, abbiamo fatto appunto come al solito abbiamo cercato di coinvolgere tutto il paese perché questo deve essere il teatro, insomma una casa per tutti. Tra i protagonisti della serata itinerante che si è conclusa in teatro per dare avvio virtualmente al nuovo cartellone di eventi c'erano le principali associazioni del territorio oltre ad importanti artisti della scena teatrale nazionale che con Monte San Savino hanno un rapporto privilegiato. Accanto al teatro impegnato e serio ci saranno anche commedie, ci sarà il teatro popolare, daremo spazio al musical, riapriremo il cinema, quindi sarà un impegno tutto tondo per il Teatro Verdi. Da dicembre alla fine di marzo il Teatro Verde di Monte San Savino farà vivere una stagione all'insegna del sorriso. Il sorriso che può essere amaro può anche addirittura far morire, come morire da ridere, perché comincerà con Petrolini, con Ballantini che fa Petrolini, poi con tanti ospiti come Daniela Morozzi, Anna Meacci, Greg di Lillo e Greg che farà il calapranzi di Pinter. Ma la stagione è veramente una stagione molto ampia, molto larga e siamo contenti di ricominciare anche con una stagione normale, con gli abbonamenti, quindi aspettiamo veramente a braccia aperta il pubblico.